L'Università di Ferrara si fa mecenate verso i propri neolaureati finanziandone le idee imprenditoriali innovative. Sentiamo Carlo Valentini. Neolaureati con idee brillanti e innovative che possono diventare imprese. L'Università si trasforma in una sorta di merchant bank e partecipa con una quota di capitale alla nascita delle aziende, trasformando i neolaureati in neoimprenditori. Succede a Ferrara, dove l'Università ha investito 3,3 milioni di euro per fare nascere 18 imprese giovanili e si appresta a un nuovo investimento di 3,6 milioni. Alcune che sono partite come piccole imprese in cui i giovani facevano un po' i factotum della loro impresa, i collaboratori, i soci, l'aspetto commerciale. E sono imprese che hanno visto l'ingresso di partner industriali importanti e anche investitori internazionali. Così c'è chi si è messo a produrre un nuovo sistema che misura le radiazioni, chi elabora software che simulano mutamenti nel paesaggio, chi lavora nuove formule per i cosmetici. Siamo molto da fare per dare un carattere molto produttivo alla società e non solo di consulenza, perché secondo noi il vero valore aggiunto era quello. Oggi riusciamo ad avere direttamente noi contatti con i nostri clienti, proporre i nostri servizi e quindi non siamo più esclusivamente dei semplici ricercatori. Il lavoro c'è insomma, quindi noi siamo attivisti.